estate 2016 all'insegna del be different e feel good citroen con la presenza del mark del double chevron e delle sue iniziative unconventional su alcune delle spiagge italiane più frequentate cervia ha visto il successo del citroen village alfantini club mentre l'angloose beach di gizera lido in calabria ha ospitato corsi di kitesurf e santa severa la citroen school of surf sport musica e intrattenimento hanno accompagnato il vertical summer tour partito da lido degli estensi nel ferrarese a luglio per proseguire lungo la penisola toccando località come follonica punta ala e inumana fino a catania e a real monte in provincia di agrigento protagonista riccione con radio dj la nuova emeari il modello più originale anticonformista del double chevron ora sul nostro mercato l'auto che meglio rappresenta anche il citroen unconventional team costituito da atleti che praticano sport fuori dagli schemi capaci di imprese sensazionali come i campioni di extreme sailing vittorio e nico malingri che ad agosto hanno battuto il record della traversata marsiglia cartagine attraversando il mediterraneo in meno di 43 ore sedicesima edizione ad estig in olanda per l'international citroen car club rally la grande manifestazione che ogni quattro anni raccoglie gli appassionati del marchio del double chevron provenienti da tutto il mondo oltre 5.000 le vetture partecipanti e oltre 45.000 i visitatori grandi risultati anche nel motosport con l'imbattuta si elisee w tcc ancora sul gradino più alto del podio a termas de riondo grazie alle vittorie di tom filtona e cosè maria lópez